Una ragazza di 25 anni, Rossella Cucchiarale, originaria di Cerignola, è morta in un incidente stradale avvenuto ieri in tarda serata alla periferia di San Ferdinando di Puglia sulla strada che porta a Cerignola. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata dopo una curva sbalzando la vittima fuori dall'abitacolo. Ad aver tradito la giovane al volante potrebbe essere stata la scarsa illuminazione di quel tratto di strada. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118. Da quanto si apprende, la 25enne sarebbe morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sulla dinamica dell'incidente. Tanti messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa della giovane vittima. Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha annunciato sulla sua pagina Facebook di aver annullato l'inaugurazione della nuova piazza Santa Barbara perché scrive la notizia della morte di Rossella, tragicamente scomparsa in un incidente stradale che viveva proprio in quel quartiere, ci obbliga al silenzio, alla preghiera e alla riflessione.